Al minuto 71, con il numero 19, Senato Lulic, Senato Lulic, Senato Lulic, Senato Lulic. La Lazio ha realizzato un kit speciale che sarà in vendita tra pochi giorni per tutti voi. I Vasi Bianco Celestri facciamo un grande applauso al nostro falconiere Womber Rabele! E ora alziamoci tutti in piedi e che è il momento di chiamare il nostro simbolo, il simbolo che ci rappresenta sta per spiccare il volo. Stoglio! Stoglio! Un volo lungo 123 anni! Vola! Lulic! 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 Un'azio nel cielo, più in alto se volerà 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.